Quando noi parliamo dell'invasione dello scoiattolo grigio, che tipo di conseguenze ci possono essere per la popolazione, per l'ambiente e dunque anche i territori che le persone vivono? Essendo l'unico scoiattolo arboricolo che abita appunto nei nostri boschi, svolge un ruolo ecologico importantissimo, aiuta il bosco a rigenerarsi, aiuta le piante a diffondere i propri semi. Per cui nel corso delle centinaia di migliaia di anni in cui si è evoluto insieme ai nostri boschi ha imparato a svolgere un ruolo che è essenziale per mantenere un ambiente sano. Lo scoiattolo grigio invece è un cugino americano, vive in un contesto molto diverso e però è estremamente abile nel soppiantare appunto la nostra specie. Quindi in pochissimo tempo riesce, sottraendogli sostanzialmente risorse, a provocare la scomparsa dello scoiattolo rosso. E' per questo che noi siamo intervenuti per promuovere questo progetto in collaborazione, come diceva prima il dottor Sergiacomi, con diversi altri partner, per promuovere un'azione coordinata a scala nazionale con fondi europei. L'ISPRA, l'Istituto Tecnico Scientifico del Governo Italiano, quindi noi forniamo supporto ai ministeri, alle regioni, alle province. La legge ci chiede di valutare tutti gli interventi di contenimento delle popolazioni selvatiche. Noi però abbiamo detto, lei ha nominato l'Unione Europea, quindi questo progetto viene da oltre confine, oltre confini regionali, oltre confini italiani, quindi rientra in alcune linee guida proprio volute dall'Unione Europea, questo perché evidentemente anche altri paesi della nostra Unione si sono resi conto della pericolosità e dell'invasività troppa di queste specie animali. E quindi che cosa ci dice di fare l'Unione Europea? Sì, l'Unione Europea ha adottato lo scorso anno un regolamento, quindi una legge molto forte, perché le indicazioni di questo regolamento sono obbligatorie per i paesi membri dell'Unione Europea, proprio sulle specie invasive. È un regolamento che è stato adottato a larghissima maggioranza del Parlamento nell'aprile dello scorso anno, appunto, ed è entrato in vigore il primo gennaio del 2015. Questa lista che lei citava delle 37 specie è il punto di partenza per l'applicazione, perché tutte le specie che sono inserite in questa lista diventerà obbligatorio per i paesi fare una serie di misure di controllo. L'elemento forte di questo regolamento è in realtà non le azioni di controllo, che purtroppo, come in questo caso, spesso si rendono necessarie, ma è soprattutto la prevenzione. Se noi impedissimo l'arrivo di queste specie, che ripeto, sono sempre portate dall'uomo, a volte accidentalmente, come nella zanzara tigre che è arrivata nelle acque che stanno nei copertoni delle macchine, che sono importate dall'est dell'Asia, a volte intenzionalmente, come lo scuillattolo grigio, che invece è stato importato come animale da compagnia e poi liberato. Negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo, è aumentato moltissimo, perché sono aumentate le importazioni, i commerci, gli spostamenti delle persone. E quindi l'Europa ha deciso di regolamentare meglio questa materia e per le specie che saranno inserite in questa lista, tra cui lo scuillattolo grigio, la nutria ed altre specie che interessano anche l'Italia, c'è prima di tutto un divieto di commercio, di rilascinatura, di trasporto. Quindi finalmente si chiude quel rubinetto che ha portato, purtroppo, all'arrivo nei nostri territori per errori dell'uomo di queste specie. Però, parallelamente, impone anche un obbligo di rimozione, per cui i paesi che trovano nel loro territorio una di queste specie hanno l'obbligo di fronte all'Europa di intervenire, altrimenti c'è un rischio di incorrere in forti sanzioni. Dove si trova lo scuillattolo grigio? Che tipo di conseguenze può avere rispetto al nostro territorio, rispetto anche al nostro territorio collegato poi a tutta l'Italia centrale, l'Italia mediana? Qui da noi, anche se qui da noi parliamo di parchi urbani, però sono tutte zone verdi che sono in netta continuità con tutto l'ambiente forestale, anche poi esterno. E quindi dal nucleo che si è rilevato in espansione, dall'area, diciamo, centro-occidentale rispetto alla città di Perugia, nella zona dello stadio del percorso verde, chi conosce bene l'area intuisce come una continuità ecologica con tutto l'ambiente forestale attorno, in pratica impedisce qualsiasi barriera alla diffusione di quest'animale. Ora che succede? L'Umbria, noi ci freggiamo sempre del titolo Cuore Verde d'Italia e in questo caso lavora un po' contro poiché questa continuità ecologica sicuramente ci farà faticare un po' di più per riuscire a contenere questa espansione che speriamo di aver preso per tempo proprio perché ancora limitata a circa 50 km2, abbiamo stimato, nella zona, come dicevo, nord-occidentale della città. Molte delle specie che mettono in pericolo i nostri ambienti, i nostri ecosistemi, come lo scoiattolo, mettono anche in pericolo la nostra economia, la nostra agricoltura. Lo scoiattolo grigio, attraverso l'azione di scortecciamento degli alberi, nei paesi in cui si è insediato sostanzialmente in Gran Bretagna, provoca enormi impatti economici anche sull'attività del bosco. Molte delle persone che vivono in questa regione hanno già imparato che lo scoiattolo grigio può danneggiare, per esempio, la produzione di noci, l'orticoltura, per cui l'impatto anche economico può essere rilevante. Non c'è pericolo per l'uomo, ma c'è pericolo non solo per l'ambiente, ma anche per le attività. Che differenza c'è quanta struttura proprio fisica tra il nostro scoiattolo rosso e quello che non deve essere nostro, cioè lo scoiattolo grigio? Il nostro è una specie strettamente arboricola, per cui deve poter saltare di ramo in ramo. Questo vuol dire che non può mai ingrassare. L'abbiamo anche visto nelle foto che abbiamo mandato in onda. Si vede volare, sembra planare proprio. No, è un animale bellissimo, agilissimo, timido, che vive moltissimo sugli alberi, anche per difendersi dai predatori. Invece lo scoiattolo grigio americano è un animale che sta molto sul suolo, può quindi accumulare grasso. È molto più ciccione del nostro scoiattolo rosso. Questo fa sì che sia molto abile a sottrarre le risorse che per il rosso sono importanti per i periodi in cui c'è poco da mangiare. Lo scoiattolo rosso tende a nascondere nel suolo piccole riserve di cibo. Lo scoiattolo grigio le trova e se le può mangiare perché può permettersi di ingrassare, di rendere peso, perché non deve saltare di ramo in ramo. Questo fa sì che lo scoiattolo rosso, che non è abituato a questo competitore, ad avere un competitore così efficace, in pochissimo tempo non si riesca più a riprodurre per la scarsità di risorse. In generale, noi vediamo che in altri contesti, l'Italia ed Europa, quando arriva lo scoiattolo grigio, in un anno lo scoiattolo rosso può dimezzare la sua densità e in due o tre anni può scomparire completamente. A cipicchia. È un fenomeno rapidissimo, legato soprattutto al fatto che le due specie sono ecologicamente diverse e lo scoiattolo grigio è estremamente bravo nel rubare le risorse essenziali per il nostro rosso. Grazie.